Amici di Casalotto ben ritrovati, vi ricordo immediatamente l'899-011-699, ripeto, 899-011-699, avrete in esclusiva i tre terni per te, tre soli terni secchi, ottimi, avrete il terno di Capodanno, questo è in esclusiva ed è valido anche a fine anno, il terno con il 90 di Lio e di Marco, abbinamento mio e abbinamento di Marco e attenzione, al terno della mia data di nascita, favorito il numeretto 1, per cui tre terni secchi, ottimi, validi, due estrazioni, 899-011-699, ascoltali subito, da Lio e Marco è tutto, auguri e in bocca al lupo!